ciao ragazzi bentornati sul mio canale zoo papagalli vi ricordate del video che avevo postato dicendo che la mia cocorritte femmina aggrediva il maschio alcuni mi hanno anche scritto ma come mai la femmina aggredisce il maschio e io il motivo non lo sapevo non sapevo qual è perché questa femmina qui l'ho acquistato altrove il maschio ce l'avevo già con un'altra femmina solo che la sua femmina è morta allora ho acquistato questa femmina qui che state vedendo verde da un'altra parte e niente l'ho tenuto in parte in una gabbia singola da sola vicino a questo maschio qui che visto per far vedere affinché si conoscessero prima di metterli insieme dopo una settimana che li ho messi vicino pensavo che si conoscessero niente dopo li ho messi insieme all'inizio tutto andava bene un giorno sono venuto ho visto che la femmina lo beccava e ho fatto un video vi metterò il link in descrizione e oggi sfortunatamente l'ha uccisa questa femmina qui ha ucciso il maschio nel preciso momento in cui sto facendo il video ecco eccolo qui come vedete l'ha becchettato dappertutto fino a ucciderla non so perché non so perché l'ha uccisa forse perché magari non lo conosce se sapete il motivo fatemelo sapere qui sotto nei commenti grazie mille ragazzi per odio è tutto a me dispiace tanto per questo fantastico maschio che è stato ucciso per il momento è tutto ragazzi ciao alla prossima bittorio aggiornato su questo femmina qui che è un po cattivella ciao ciao